Allora, buongiorno cari amici di Ciao Como, siamo qui nella sala pittori del Teatro Sociale di Como e siamo qui con tantissimi bellissimi ragazzi super vestiti a festa, perché sarà quasi una festa, ma ce ne parla Barbara Minghetti. Barbara, chi sono e chi c'è di fianco a te? Allora, intanto buongiorno a tutti, benvenuti. La sala pittori, spiego perché si chiama sala pittori. Se volete inquadrare, è perché dalle origini questa era la sala scenografia, dove i scenografi facevano dei bozzetti, degli schizzi e quindi da allora noi abbiamo deciso di chiamarla la sala pittori. Questo un po' visto che facciamo un giro del teatro ogni volta in posti diversi. Allora, io ho il piacere di avere con me Massimiliano Burini e tutto il cast e la compagnia del progetto Parachizze e quest'anno facciamo in onore dell'anniversario di Puccini Turandotte, Cuore di Ghiaccio. È uno spettacolo per bambini della scuola materna che debutta l'1 dicembre, prima per le scuole, con un percorso fatto con le educatrici attraverso i nostri formatori di Opera Education e poi per le recette per le famiglie. Ma visto che siamo qua e tutti già un po' vestiti, con grande piacere lascio la parola al regista che ci porterà veramente in un mondo un po' magico anche. Sì, ciao a tutti. Ma, che dire, noi vi aspettiamo intanto tutti quanti il primo e il due, perché sono due giornate. Il primo dibuttiamo e il due abbiamo una replica pomeridiana. Due? Due, sì. Turandotte, Cuore di Ghiaccio cerca di essere una favola, una favola magica. Diciamo che lo studio è stato a priori sul recupero della favola che sta dietro la grande opera che conosciamo. E in questa favola ci sono tutti i temi della grande opera che conosciamo, dove il mistero, la speranza, l'amore, la passione e anche il dramma, perché c'è un dramma che tira tutte le fila di quest'opera, sono raccontate in questo nostro piccolo, diciamo, spettacolo, che però cerca di essere una chicca, vuole essere un, come si dice, un distillato della grande opera senza perdere la forza della musica, senza perdere la forza di Puccini, cercando di non imbrigliarlo, ma distillandone quelle perle che tutti noi ricordiamo delle grandi aree dell'opera in un'atmosfera leggera, eterea, fiabesca, dove possiamo dire le maschere, quindi vedete una che porta la nostra Claudia. Ecco, presentaci un po' anche loro. Sì, molto volentieri. Abbiamo una musicista straordinaria, che è Gaia, che sarà la nostra pianista. Abbiamo un unico strumento, ma vi assicuro che lei lo rende gigantesco. Claudia, cantante, lirica. Lei, sulla sua voce e anche sul suo corpo ci sarà Turandot, ma ci saranno anche altri momenti che lei riuscirà a raccontarci con la sua voce. Poi abbiamo Ludovico e Adele, che sono due attori che interpreteranno diversi ruoli all'interno dell'opera. Ovviamente qui li vedete con un costume per Calaf e un costume per Liu. Ma abbiamo anche i tre grandi, Ping, Pang e Pong. E soprattutto i bambini che sono protagonisti, giusto? I bambini sono assolutamente protagonisti, in diversi momenti saranno fondamentali per portare avanti la storia, perché non dimentichiamoci che in Turandot ci sono tre enigmi che devono essere risolti. E non potevamo risolverli da soli, sarebbe stato brutto. E quindi coinvolgeremo tutta la platea e il teatro per aiutare Calaf a risolverli. Quindi noi vi aspettiamo, perché quello è un momento importante. Se non ce la fa Calaf, diciamo che lo spettacolo non può andare avanti. Quindi venite e aiutatelo. Ma ci saranno anche altri momenti, dove c'era un grande momento di canto tutti insieme e anche due piccole coreografie che cercheremo di far danzare ai bambini e speriamo anche agli adulti, perché alla fine saranno anche loro ad accompagnarli. Barbara, io non vorrei dire di più, perché sennò poi... No, esatto, non svegliamo troppo. Siamo curiosi e verremo. Peraltro le attività possono essere trovate sul sito, perché c'è il kit dello spettatore. Quindi anche a casa, prima, i genitori possono far cantare l'aria e preparare l'oggetto che serve a portare avanti lo spettacolo. Quindi preparatevi e venite a cantare con noi la magnifica storia di Turandotte. Assolutamente. Intanto io saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo appunto sul nostro canale Facebook. Barbara, non solo Turandotte, ma anche di un'altra opera. Turandotte ancora stasera, perché stasera parte il coro dei 200. Il nostro progetto ormai è l'undicesima edizione, a cui teniamo tantissimo, che quest'estate vedrà il debutto in arena nel nostro spazio estivo di Turandotte, quella grande, con il coro, l'orchestra e i 200 coristi e di più. Quindi stasera inizia, sono tutti molto commossi, insomma agitati, emozionati, perché riparte il progetto con questa meravigliosa opera di Puccini. Quindi poi aspettateci per le prossime novità. Ma abbiamo da mercoledì, abbiamo qua con noi Pizzi, che è un grandissimo regista, non più giovincello rispetto a questo cast, che è così giovane. Sì, tra l'altro sono giovanissimi. Quanti anni, da che range di età parliamo? Quanti anni avete ragazzi? Io ne ho 18. Lui è più vecchio, dopo di me. Però sono tutti giovani. Assolutamente. Sarà uno spettacolo davvero toccante. Ma appunto abbiamo Pizzi, che arriva qua fra poco, per Luigi Pizzi, che è un regista appunto ormai molto conosciuto, ha vinto tantissimi premi, è un regista non giovincello, perché ha compiuto 93 anni, ma Arzillo più di tutti noi messi insieme, e quindi riprende qua da noi l'incoronazione di Poppea di Monteverdi, che va debuttato a Cremona, e avremo le recite venerdì e domenica. Quindi un'occasione per vedere un capolavoro che si fa raramente, ma che è davvero la musica da cui poi è partita la nostra opera, che ascoltiamo di repertorio. Quindi vi aspettiamo anche per questo. E poi ricordiamo che abbiamo appena concluso la finale Asdico-Asia. Per il primo anno abbiamo fatto un concorso a Seul, è stata una collaborazione prestigiosa e importante. Tra i nostri giurati, compreso Giovanni Vegeto, il direttore generale, è stato là il presidente della giuria, che ha fatto un lavoro con diversi cantanti di Seul, e che adesso i vincitori vedremo a Como nel prossimo concorso, che sarà a gennaio. Quindi una collaborazione internazionale, per noi importante, che speriamo porti a novità e a nuove produzioni, anche nel mondo dell'Oriente, come si dice adesso. Quindi dal piccolo ma prezioso al grande Turandot con i 200, vi aspettiamo sempre a teatro. Assolutamente. E salutiamo anche la nostra Graziella, che a proposito appunto di Turandot cuore di ghiaccio, scrive bellissima iniziativa, parteciperà anche alla mia nipotina di 5 anni. Fantastico. Poi a noi ci piace questa cosa delle generazioni, perché spesso vengono i nonni con i nipoti, ma aspettiamo anche i genitori. Esatto. E allora Barbara, per sapere di più i biglietti, le informazioni, tutto quello che non abbiamo detto in questa breve diretta, dove dobbiamo andare? Al sito del teatro sociale como.it. Perfetto. Io ringrazio questo cast meraviglioso, vi lascio le vostre prove, perché siamo arrivati proprio interrompendo le prove, per cui insomma vi lascio. Ah, vedete, sono anche un po' scalzi, guarda, prova a inquadrarli sotto. Sono tutti scalzi con le calzettine. e ringrazio Barbara, ringrazio Massimiliano, ringrazio i ragazzi, buon lavoro e ci vediamo a teatro.